Corruzione alla Regione Corruzione alla Regione E sul fratellino Cristian Agricoltura in ginocchio L'ultima ondata di maltempo Ferisce ulteriormente la già approvata economia calabrese In ginocchio soprattutto il comparto agricolo Dal Lametino al Vibonese fino al Regino C'è chi ha perso tutto Festa per Gullo Il pilota calabrese si aggiudica Il titolo di campione italiano velocità montagna Per lui una giornata trionfale all'imbadico Colato dalla sua scuderia in casacaffo Buona martedì d'Alessio Buompasso Bentornati alla nostra informazione Partiamo dalla cronaca Una nuova inchiesta della procura di Catanzaro E della guardia di finanza Fa tremare il palazzo della Regione Agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione Finiscono una dirigente Ed una imprenditrice turistica Della Vibonese Oggi abbiamo eseguito Due ordinanze di custodia cautelare Degli arresti domiciliari Riguardato una dirigente della Regione Calabria Un'imprenditrice del settore turistico alberghiero Del Vibonese E dovere Così è stata denominata L'operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria Di Catanzaro Prendendo spunto da alcune conversazioni Intercorse tra le due donne Raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare Degli arresti domiciliari Su richiesta della procura della Repubblica di Catanzaro Maria Gabriella Rizzo Dirigente della Regione Calabria Dipartimento Turismo E Laura Miceli Imprenditrice turistica del Vibonese Entrambe indagate per corruzione Io le ho lasciato le mie Lulegini fare tutta la documentazione Perché così Giovedì finisce il decreto di liquidazione Io le ho detto che giovedì mattina Voglio fermare il mandato Quindi Perché lo stavano Io l'ho detto Questo è il sale Dovere Un rapporto Quello tra le due donne Che andava oltre la mera cortesia Delle attività investigative Infatti è emerso Che la Rizzo forniva attività di consulenza Comunicava informazioni Non ancora divulgate Riferite a bandi Favoriva la sua amica imprenditrice In cambio di benefici concreti Determinando uno sfalsamento Della funzione pubblica Sono stati accertati Un viaggio in Toscana Un viaggio in un albergo A Firenze Di proprietà della sorella Delle imprenditrice Attinta questa mattina Un altro soggiorno Sempre presso Un villaggio In provincia di Vibo Valencia Consegna di cassette di vino E anche altri pranzi Quindi tutta una serie di regalie Che sono state date Dalla imprenditrice Alla dirigente della regione La stessa dirigente Che all'epoca dei fatti Era anche responsabile regionale Per la trasparenza E la prevenzione Della corruzione Questo è un profilo Diciamo accessorio Alla vicenda specifica Che è assolutamente Preoccupante Perché appunto Ci sono dei soggetti Che sono chiamati anche A controllare Specificatamente Questi profili Di illegalità Questi fenomeni Di illegalità E che invece Da quello che è risultato Dalle indagini Si è riuscito a cogliere Il fatto Che assume La rilevanza penale In questo contesto Diciamo così Un po' opaco In cui funziona La pubblica amministrazione Da questa indagine È emersa Una sostanziale Confusione di ruoli Tra controllori E controllati Una collaborazione Che non era sicuramente Sana E corretta E che andava a scapito Soprattutto Dei tanti imprenditori onesti Che cercano finanziamenti Pubblici Per svolgere al meglio La loro attività Rossella Galati Per la CNews 24 La squadra mobile Di Catanzaro E gli agenti Del commissariato Di Lamezia Terme Hanno arrestato I presunti Responsabili Dell'omicidio Di Filippo Pantano Ucciso a colpi D'arma da fuoco Il 20 luglio Della 2005 A Martirano Lombardo In manette All'esito Delle indagini Coordinate Dal PM antimafia Elio Romano Gino E Pino Strangis E Vincenzo Arceri Ritenuto Il mandante Del delitto Unitamente E vertici Della cosca Giampà Pantano fu assassinato Nei pressi Della propria abitazione Mentre era alla guida Della sua Land Rover Fondamentali Per far luce Sull'agguato Le dichiarazioni Dei collaboratori Di giustizia Fu ucciso Nel contesto Della guerra di mafia Che imperversava In quel periodo Storico Restiamo alla cronaca Un avviso Di chiusura Delle indagini Ha raggiunto Il sindaco Di Cosenza Mario Chiuto E finito In un'inchiesta Della procura di Roma Che vede coinvolto Anche l'ex ministro All'ambiente Clini Ma il primo cittadino Si difende E ribadisce La propria Estranetà Ai fatti La bomba Mediatica È scoppiata Nelle ultime ore Ma l'avviso Di conclusione Delle indagini Il sindaco Di Cosenza Mario Chiuto Lo aveva ricevuto Già da qualche tempo Dal mese di maggio Per l'esattezza La procura di Roma Gli contesta L'appartenenza Ad un'associazione Per delinquere Finalizzata Tra l'altro La turbativa d'astre Alla corruzione Al cui vertice Ci sarebbe L'ex ministro Dell'ambiente Corrado Clini L'indagine Nelle mani Del PM Alberto Galanti Va avanti Da circa 6 anni E coinvolge Complessivamente 31 persone Tra cui anche Martina Hauser Compagna di Clini Ed ex assessore Di Palazzo Dei Bruzzi In particolare Od occhiuto Vengono contestati I molteplici Incarichi Svolti in Cina Anche nell'ambito Di programmi Di cooperazione Internazionale Poi ricambiati Attraverso La nomina Di Martina Hauser Nella giunta Comunale Di Cosenza L'avvocato Nicola Carratelli Legale di fiducia Del sindaco Ha già depositato Una corposa Memoria difensiva Mario Chiuto Inoltre ha chiesto Di essere interrogato Pertanto Il pubblico ministero Prima di depositare Un'eventuale richiesta Di rinvio a giudizio Dovrà necessariamente Acquisirne la deposizione Per non incorrere Nella nullità Del provvedimento Ochiuto Intende dimostrare Di avere intessuto Rapporti con il governo cinese Molto prima Di incontrare Corrado Clini Soprattutto in virtù Della sua amicizia Con il sinologo Internazionale Francesco Sisci Originario di Villa Piana E di aver nominato Assessore Martina Hauser Per le sue competenze Peraltro La Hauser Hauser Ha ricoperto L'incarico quasi gratis Dovendo sostenere Sia le spese Per l'affitto Di un'abitazione a Cosenza Sia quelle Dei continui spostamenti A Roma Secondo Ochiuto La tempistica Con la quale La notizia è stata diffusa Non lascia dubbi Si tratterebbe Di una ritorsione politica In altre parole La battaglia Per le regionali Sarebbe già in corso Senza esclusione di colpi Salvatore Bruno Per la CNews 24 Adesso Andiamo a San Pietro Lamettino Dove continuano Purtroppo Senza esito Le ricerche Del piccolo Nicolò Il viavai Di forze Dell'ordine Di volontari È continuo A San Pietro Lamettino Non si è interrotto Nemmeno stanotte Anche con il buio Più pesto Sono continuate Senza sosta Le ricerche Del piccolo Nicolò A cinque giorni Dalla tragedia Che ha visto morire Sua madre Stefania Il fratellino Cristian La Calabria tutta Continua a sperare Che quel corpicino Venga ritrovato E riconsegnato Alle braccia Del padre Angelo Friglia Che non vuole essere ripreso Ma che anche oggi Non ha abbandonato Nemmeno per un attimo I luoghi delle ricerche Ricordando a tutti Che quando Nicolò Verrà trovato Nessuno dovrà toccarlo Prima di lui Intanto oggi A cercare di dare Una svolta A quelle ricerche Forsennate Che riguardano Un'area vastissima Stimata in due chilometri Quadrati Sono arrivati Gli uomini del CNR Per effettuare Indagini geofisiche Con prospezione Georadar Ed elettromagnetica Sono come una sorta Di raggi X Di TAC Del territorio Perché Abbiamo anche Degli strati di fango Che si sono Sovrapposti A seguito Dall'alluvione Quindi Il bambino potrebbe Anche Trovarsi Al di sotto Non sottovalutiamo Nessuna ipotesi Fanno delle ricerche In prima metà Fino a 3-4 metri Con questo sistema Iniziando Alla parte alta Da dove c'è stato Il primo impatto Supponiamo con l'acqua E poi Vanno a scendere Verso giù E il flusso Dei volontari Armati di badili O a mani nude Continua Il religioso silenzio Ci siamo La protezione civile Sta lavorando Siamo tutti qua E' successo Che qualcuno Si è sentito male Eh sì sì Senz'altro Senz'altro Perché l'emotività A sale Siamo tutti Dei genitori Abbiamo tutti figli Sappiamo Che significa Perdere la vita O male Per cui Non siamo Con i supporti Con la speranza Appunto Che questo piccolo Si ritrovi E possa avere Una teglia sepoltura Tiziana Bagnato Per la Cineus 24 E la recente Ondata di maltempo Oltre a provocare morte E dolore Ha inferto ferite profonde All'economia In particolare Del comparto agricolo Io sono completamente bloccata Qui come strada d'accesso E soprattutto E' bloccata la strada Per arrivare al frantoio Macchinari fermi Frutti sugli alberi E imprenditori Imbufaliti contro le istituzioni L'alluvione della scorsa settimana Che ha devastato ampie zone Del territorio calabrese Non ha risparmiato La spromonte Le piogge incessanti Hanno inferto Un duro colpo A infrastrutture E tessuto economico Con questa situazione Proviniamo Un tessuto economico Di comuni interi Cioè qui si vive Esclusivamente di agricoltura Se le istituzioni Non capiscono Che l'area montana E l'agricoltura Va tutelata Per portare avanti I comuni montani Moriremo Cioè questi paesini Scompariranno I produttori Del comparto olivicolo Settore strategico Nella sfittica economia Della nostra regione Sono in ginocchio Da anni lamentano La totale assenza Di manutenzione stradale E nessuna politica Contro il dissesso Idrogeologico Qui non c'è stato nessuno Siamo stati Totalmente abbandonati All'inizio In una campagna Olearia importante Noi produciamo Extravergine D'eccellenza E abbiamo soltanto Pochi giorni Per produrre Questi giorni Vanno dai primi Di ottobre A metà novembre E io sono Completamente bloccata Qui come strada D'accesso E soprattutto È bloccata La strada Per arrivare Al frantoio Noi gestiamo Più di cento aziende Di tutta la provincia E così Non riusciamo Più a gestirli Francesca Altomonte Per la Cineus 24 Adesso vi raccontiamo Una storia Quella di Johan E della sua lezione Di civiltà A Pizzo È un paese Così bello Se ti guardi attorno Poi però Guardi a terra E capisci Che c'è qualcosa Che non va Lui è Johan Erich Viene dalla Svezia Ma praticamente Ormai è un cittadino Calabrese acquisito Da sei anni Abita insieme A sua moglie In questa villetta Affacciata sul golfo Di Pizzo Il panorama Da qui è speciale Una cartolina dal vivo Di cui Johan E la sua consorte Si sono innamorati Diversi anni fa Quando sbarcarono Sulla costa degli dei Per la prima volta Per un breve periodo Di vacanza Due settimane di sole Mare Profumi e sapori Che gli hanno cambiato La vita Non avevamo nessuna intenzione Di comprare casa qui Ma quando arrivi E vedi Tutto questo È davvero difficile Resistere Alla tentazione di farlo E lo abbiamo fatto Da quando siamo qui Passiamo più tempo insieme E lui è più rilassato Un angolo di paradiso A cui non manca nulla Se non un po' Di civiltà E buona volontà Ed è qui che la storia Di Johan diventa Se possibile Ancora più bella Ogni mattina Si sveglia Fa colazione Con sua moglie Su questo terrazzo Dalla vista Ammozzafiato Ed esce per la sua Consueta sessione Di blogging Johan si mantiene In forma Raccogliendo rifiuti Una consuetudine Nel suo paese Una straordinarietà A queste latitudini L'Italia La Calabria Ci regalano Così tanti piaceri Tanto buon cibo Tanti buoni vini E persone davvero Molto carine Ed io Ricambio tutto ciò Ripulendo per terra Ed eccolo Johan Armato di guanti E busta Equipaggiamento Poco costoso Bottiglie di vetro Cartacce Pacchetti di sigarette E sacchetti Raccoglie tutto Quello che sporca Ed inquina Attorno al suo quartiere Ma non solo Impossibile non notarlo E incassare Senza fiatare La lezione di civiltà Nell'ultima settimana Le strade non sono sporche Come prima Credo che qualcosa Sia scattato Anche nella testa Degli altri E la storia Di Johan Erich L'uomo che ha ripulito Un pezzo di Calabria Ricordandoci Quanto bella sia Erika Cunzolo Per la C News 24 Nell'ospedale Spock Di Corigliano Rossano Stamattina hanno incrociato Le braccia I lavoratori Dell'azienda Che gestisce La mensa Mancano Gli stipendi Stamani Un gruppo di lavoratori Dell'impresa appaltatrice Del servizio di refezione Presso l'ospedale Spock Di Corigliano Rossano Appartenente Al sindacato generale Di base Ha incrociato Le braccia In segno di protesta Nei confronti dell'azienda A causa di alcuni Prolungati ritardi Nella corresponsione Degli stipendi Oltre che Il mancato pagamento Degli oneri accessori Alle mensilità Stiamo protestando Stamattina Perché siamo Da diverso tempo Che stiamo Cercando con l'azienda La Sier Che in questo caso Un colloquio Con tutti i lavoratori In quanto in azienda Sussistono serie Grossi problemi Che tuttora Sono insoluti Purtroppo L'azienda ha deciso Che a noi Non ci ha voluto Convocare Non vuole Sentire i nostri problemi I problemi che evidenziamo Sono innanzitutto I problemi comuni Che abbiamo tutti quanti Qua in azienda Circa 60 lavoratori Che praticamente L'azienda ci paga Quando dicono loro Non rispetto Nel contratto Nel contratto nazionale Del lavoro Che bisogna essere pagati Entro la prima decada Del mese Si aggiunge La quartodicesima Mensalità Si aggiungono Un sacco di cose Che ancora oggi Sono insolute I problemi Molto più seri Li abbiamo anche A livello di sicurezza Perché praticamente Qui dentro Di sicuro Non c'è proprio nulla Intanto Nella notte scorsa I mezzi in dotazione All'azienda appaltatrice Della mensa Sono stati oggetto Di atti vandalici Le dinamiche Dell'accaduto Ed eventuali responsabilità Sono al vaglio Degli inquirenti Sul posto Infatti Hanno operato Gli agenti Del locale Commissariato Di Polizia Di Rossano Marco Lefosse Per la Cineus 24 A Reggio Calabria Invece Scatta L'emergenza Randaggismo La situazione Qui a Reggio Calabria Oramai È indicibile Poiché Si registrano Continui casi Di abbandono Da parte Insomma Di gente Vigliacca Che va ad abbandonare Tante di queste creature Al loro triste destino È una vera e propria emergenza Quella del randaggismo In città Volontari E animalisti Ogni giorno Temperano a quello Che invece Dovrebbero fare Le istituzioni Impiegando il proprio tempo E anche le proprie risorse economiche Tra Regione Comune E Asp Le inefficienze Sono molteplici Non è mai partita Una campagna di stilizzazione È responsabile Di questo Il Comune Di Reggio Calabria Assolutamente Perché può esigere I fondi Della comunità europea Sia per la campagna Stilizzazione Una vera e propria Campagna di stilizzazione Cani e gatti Un controllo A tappeto Dei microchip E dopodiché Collochiare Con la Regione Ed Sistemare Ampliare Ovviamente Il canile Un canile sequestrato Nel marzo Dello scorso anno E che non riesce a contenere Le continue segnalazioni Altro problema Per i felini A Reggio Ancora Non esiste un gattile Francesco E la rete Dei suoi volontari Sono presenti 24 ore su 24 Ma se gli enti locali Non collaborano Da soli Non ce la potranno fare Noi volontari Siamo presenti Ossia possiamo aiutare Ad andare a prendere Le creature E portarli All'ASP Per la stilizzazione Assolutamente Ma questo Non è stato mai fatto Il Comune di Reggio Calabria Non colloquia Con noi volontari Non siamo stati mai interpellati Angela Panzera Per la Cineus 24 A Catanzaro Sospeso Il servizio funicolare Che collega L'area sud Con il centro storico Per effettuare I lavori Di manutenzione L'impianto Non tutti gli utenti Però ne erano A conoscenza E contestano Il disservizio Guardate Signore Non ci vado Di qua Il pulmino Signora Il servizio funicolare Che collega L'area sud Di Catanzaro Con il centro storico È stato sospeso Venerdì scorso Ma sono tanti gli utenti Che ancora non lo sanno Raggiungono la stazione Di sala E hanno modo Di effettuare La scoperta Dei condizionare La catanzaro Non è Chi viene qui sotto Fa un certo percorso Di casa Per avere una comodità Poi arriva qua E si trova Con questo disagio Per sopperire Il disservizio La MC La MC Società che ha in gestione La funicolare Ha predisposto Un servizio di navette Che fanno la staffetta Da sala Fino a Piazza Roma Ugualmente apprezzato Dagli utenti In mancanza di meglio Ma meno comodo Sotto il profilo Della mobilità Sono rimasto fregato Perché pensavo Non sapevo Che c'era Il pullman Lo stop all'impianto Di risalita Simbolo della città Capoluogo Si proterrà Per almeno tre mesi Per consentire Alla MC Di effettuare I lavori di manutenzione Ventennali E sarà restituito All'esercizio Non prima di gennaio Dell'anno prossimo Avrebbe un'opportunità In più Per tutti i cittadini Avere l'utilizzo Della funicolare Per me va bene Lo stesso Perché voglio dire Certamente La funicolare Uno viaggia in funicolare Come se Una cosa Molto bella Molto Accogliente Ma Voglio dire Il servizio Secondo me Come servizio Va bene anche Questo Quindi Con la speranza Che la funicolare Venga Al più presto Naturalmente Rimessa Come 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 Dovrebbe funzionare Luana Costa Per la Cineus 24 Ha fatto Parte Di quella Generazione Di fenomeni Della pallavolo italiana Andrea Zorzi E il suo impegno Sociale A Reggio Calabria Il campione Internazionale Di pallavolo Andrea Zorzi Ha incontrato Gli studenti Dei principali Istituti Superiori Di Reggio Calabria Zorro Così lo chiamavano È stata una colonna Portante Della nazionale italiana Quella passata Alla storia Come la generazione Dei fenomeni Ai giovani Zorzi Ha raccontato Del suo approccio Con lo sport Quando i suoi Due metri Due centimetri Gli sembravano Un ostacolo Per poi Divinire la sua fortuna E quello Che cerco di fare In questi casi È raccontare loro Come nella mia vita Quello che io Ho considerato Per tanti anni Un difetto Un problema La mia altezza Si è poi diventato Un grande valore Ha raccontato Inoltre Della tremenda Delusione olimpica Del 1996 Che lo porterà Due anni dopo Al ritiro Tutti Anche i grandi campioni Perdono E ricordiamo Lo sport insegna Solo attraverso Le sconfitte Perché dopo quelle Ti rialzi E riprovi Quindi questo è il messaggio Per i genitori Fategli fare sport Non preoccupatevi Se i ragazzi perdono Statevi vicini Quando perdono E tenete a bada La loro presunzione Quando vincono L'evento È stato organizzato Dalla sezione regina Del centro sportivo Italiano E si incastra Nel festival Dell'educazione Di strada Dove i giovani Sono protagonisti Abbiamo invitato Delle scuole Delle scolalesche Per ragionare Confrontarsi E condividere Con un atleta Un campione del mondo Diciamo Di come lo sport Possa rappresentare Uno strumento Di promozione Di quelli che sono I valori importanti E significativi Della vita Angela Panzera Per la Cineus 24 Siamo adesso Ai motori Dopo il titolo Italiano Nel campionato Velocità Montagna Il brindisi Speciale Tra il pilota Lametino Claudio Gullo E il team Caffo E il patron Pippo Caffo Pippo Caffo E Claudio Gullo Un legame indissolubile Formato tricolore Il re dei liquori Ha dato il là Supportando con mezzi E sponsorizzazioni Il pilota Lametino Ha fatto il resto Mettendoci Velocità E costanza 8 successi In 9 gare 7 record Di tracciato 55 punti e mezzo Di vantaggio Sul diretto avversario Amministrati Nell'ultima E decisiva corsa Trapani Sul Monte Erice Claudio Gullo E il team Caffo Sono campioni D'Italia 2018 Nel torneo Velocità montagna Gruppo RS Aspirate Siamo campioni D'Italia Siamo sul tetto D'Italia Siamo praticamente I numeri uno In questo momento Sono contento Perché Comunque L'azienda Mi ha sempre supportato E hanno creduto in me In una regione dove Chi ti può affossare Di affossa Tra virgolette E quindi Con Caffo Ci siamo fatti Sempre notare Anche a livello mondiale Perché ho corso Con le barche da corso E quindi Ci conoscono anche All'estero E gioiscono Per il mio titolo italiano Della montagna E diciamo La prima cosa che mi hanno detto Ora puoi tornare in barca Però diciamo Che c'è tempo Per tornare in barca Dopo le celebrazioni In giro per la Calabria Hanno voluto festeggiare In privato Negli uffici Dello stabilimento Di Limbadi Così da poter Già programmare I prossimi obiettivi Noi auguriamo Di vederlo In categorie Più importanti Abbiamo conquistato Questo Dico abbiamo Conquistato Questo premato Speriamo Nostranno Di poter Centrare qualcosa Ancora di più Importante Di più Grosso Per lui Soprattutto Per lui Perché vedo Che è uno Che ci tiene Alessio Buon Passo Per la Cineus 24 Ed era il nostro ultimo servizio Prima di lasciarvi Vi ricordo Che potete rivedere Ogni singolo servizio L'edizione completa Del nostro telegiornale Sul sito Lactv.it Torniamo Alle 20 e 30 Grazie Visita il sito www.lacineus24.it Oppure scarica l'app Sul tuo smartphone O tablet Per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 Sulla Calabria Che fa notizie La Cineus 24 Edizione giorno Alle 14 e 15 Edizione sera Alle 20 e 30 La Cineus 24 La Calabria Che fa notizie